Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato solo l'auto incidentata, una Peugeot nera che era stata lasciata in strada dal giovane conducente. Lui, un 26enne di Raiano, dopo essere uscito fuoristrada sulla statale tra Corfino e Raiano, si sarebbe recato prima nella sua abitazione e poi da lì avrebbe deciso di ricorrere alle cure mediche allertando il centralino del 118. Sull'incidente sui generis, che si è verificato la notte fra sabore e domenica intorno alle 5, sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sulmona, coordinata dal capitano Maurizio Dino Guida. Il giovane, stando le primissime informazioni, avrebbe fatto tutto da solo. Stava tornando a casa quando è uscito fuoristrada con la sua Peugeot e lasciando il luogo dell'incidente avrebbe raggiunto la sua abitazione informando anche i familiari dell'accaduto. Poi però quelle ferite e contusioni riportate si cominciavano a far sentire, per questo da casa ha richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118. In ospedale il 26enne è stato preso in carico dei sanitari che lo hanno sottoposto a tutte le cure del caso. I carabinieri nel frattempo sono arrivati sul posto in un secondo momento, allertati da un'automobilista che transitava in quella zona di passaggio. Sono stati quindi avviati tutti gli accertamenti da parte dei militari che, non avendo trovato nessuno sul luogo dello scontro, hanno acquisito il refertore pronto soccorso. A causa dell'incidente il giovane avrebbe rimediato una ferita al naso e chimosi al ginocchio, ferite multiple al cranio. Non uno scherzo, insomma. Il sinistro non avrebbe coinvolto altre vetture, ma sull'episodio, vista la dinamica, proseguono gli accertamenti.